Sabato 10 e domenica 11 novembre il comune di Musile di Piave e l'associazione Proloco propongono due giorni di iniziative e attività didattiche in collaborazione con l'istituto comprensivo Toti. Il tema della festa è dedicato a San Martino, sulle orme degli antichi veneti. Per la giornata di sabato è previsto un laboratorio archeologico con temi riguardanti la scrittura venetica e le vicende narrative sull'antichità. Dalle ore 19.30 inizierà invece il banchetto venetico aperto a tutta la cittadinanza. La giornata di domenica sarà arricchita da una mostra sui prodotti dell'agricoltura e del mercato accompagnata dall'esibizione dei giochi. Proseguirà nella piazzetta dell'artigiano la grande esposizione di auto e moto d'epoca. A concludere la giornata sarà il concerto delle 17.30 con la fanfara del Piave con l'accompagnamento del piatto tipico veneto, pasta e fagioli offerto dalla Proloco con un arrivederci per il prossimo anno.